Siamo col consigliere regionale Marco Dolphin a questa inaugurazione di questa mostra particolare per Chioggia. È particolare ma molto ben gradita, infatti ringrazio la Lega dei Comunizionisti che ha scenduto a Chioggia e ovviamente Nicoletta e Davide che ancora una volta hanno messo del suo per portare a Chioggia e creare una mostra dello sport, del calcio in particolare, con tutta una serie di magliette esposte, di campioni del passato, non solo, ma con testimonia, gadget, cimelli importanti. Per la nostra città anche questo è importante e dunque io vi ringrazio, ma ringrazio ovviamente tutti gli espositori che hanno dato il loro contributo, che hanno scelto Chioggia, visto che questa è una mostra itinerante in tutta Italia e dunque siamo fieri e onorati di poterlo ospitare qui nella nostra città. Dunque un applauso ai nostri attori, un applauso ovviamente alla Lega dei Comunizionisti che ha scelto Chioggia ma sicuramente anche i nostri concittadini, Davide e Nicoletta che ancora una volta hanno messo del suo per organizzare il tutto. Grazie ancora e spero, mi auguro, che queste iniziative possano trovare piede anche per altre tante perché sicuramente comprendere lo sport a 360 gradi, domani sarà anche la giornata dello sport a Chioggia e dunque a maggior ragione queste iniziative veramente fanno da volano, fanno capire come è un passato, come è presente e come sarà un po' esattamente, però ovviamente nell'ambito sportivo, nell'ambito della fraternità, della socialità perché questo è il tema alla fine dello sport, dunque bravi e complimenti a tutti. Allora siamo alla Camm, la pesqueria della Camm, la novità è sulle ostiche, praticamente c'è una nuova confezione come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chivo, sono una decina di ostiche, il prezzo è buono e sono veramente ottimi una novità tecnologica, aprire le ostiche non è diciamo facilissimo, queste invece sono preparate cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostica che è stata già lavorata c'è un prodotto organico quindi assolutamente che non ha nessun problema e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che come potete vedere rende facilissima l'apertura dell'ottica